La promessa anticipazioni. Qualcosa di davvero scioccante sta per sconvolgere la tranquillità della tenuta della promessa. Curro, con il volto pallido e il respiro corto, corre disperato nel salotto, gridando di aver bisogno di un medico. Ma cosa può aver scatenato una simile reazione? Un nuovo mistero sta per prendere forma e potrebbe cambiare per sempre gli equilibri tra i personaggi. Prima di continuare, se vorresti ricevere nuovi video in anteprima della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Nel frattempo, Catalina e Pelayo riaprono la spinosa questione del matrimonio mancato con il conte. Nonostante lui continui a ripetere di essere profondamente innamorato di lei, Catalina è irremovibile nella sua decisione. Ma qual è il vero motivo dietro questo rifiuto? E soprattutto, come reagirà il conte Pelayo, ancora ferito e arrabbiato per l'umiliazione subita. Anche Geronimo entra in scena, scusandosi con Don Lorenzo per il furto avvenuto alla tenuta. Ma Pelayo non è disposto a perdonare così facilmente. Promette che il suo valletto sarà punito severamente. Tra amori e vendette personali, non tutto è dolore nella tenuta. Teresa e Feliciano festeggiano felici il loro matrimonio, anche se non tutto è così sereno come sembra. Simona, infatti, è profondamente affranta dall'imminente partenza di Candela, che presto lascerà la tenuta. La sua tristezza è palpabile, e la donna sembra non riuscire a capacitarsi che una delle persone a cui è più affezionata stia andando via. E proprio mentre gli animi sembrano divisi tra gioia e preoccupazione, un'altra ombra si addensa sulla tenuta. Cruz è profondamente irritata dalla partenza di Leonor, che ha deciso di andarsene senza nemmeno salutarla. Ma Cruz non si lascia distrarre a lungo, e torna a concentrarsi su qualcosa di molto più oscuro. Sta organizzando una battuta di caccia con un obiettivo ben preciso, uccidere Curro. Riuscirà nel suo intento, o qualcuno scoprirà il suo piano prima che sia troppo tardi? Nel frattempo, la tensione continua a crescere. Feliciano riesce a fermare Salvador, evitandogli di commettere una sciocchezza che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose. La situazione tra Geronimo e il personale della tenuta è sempre più critica. Specialmente perché, nonostante il furto sia stato risolto, Maria Fernandez è ancora lontana dalla tenuta. La giovane è stata accusata ingiustamente, e la Marchesa sembra decisa a non farla tornare, nonostante l'innocenza di Maria sia ormai stata dimostrata. Ma le sorprese non finiscono qui. Gianna riceve un regalo anonimo, e anche se Abel sostiene di essere lui il mittente, lascia intendere che potrebbe essere stato Manuel. Cosa si cela dietro questo regalo misterioso? E soprattutto, perché Abel sembra voler nascondere la verità? E tu cosa ne pensi? Chi credi che abbia mandato davvero quel regalo? Faccelo sapere nei commenti. Mentre le trame segrete si intrecciano sempre di più, Don Alonso segue il consiglio di Curro, e ottiene sia l'approvazione della Casa Reale per il business delle marmellate, che un accordo per continuare gli affari con Mr. Cavendish. Ma nonostante questo successo, le tensioni non mancano. Catalina, infatti, cerca di riappacificarsi con Pelaio. Ma il conte è ancora troppo arrabbiato per perdonarla. Dall'altro lato, Simona continua a soffrire per la partenza di Candela, e nonostante il suggerimento di Lope, rifiuta l'aiuto di Vera. Il caos esplode nuovamente quando Cruz e Don Lorenzo hanno una feroce discussione sulla battuta di Caccia in onore di Curro, durante la quale vogliono uccidere il nuovo barone. Nel frattempo, tutto lo staff della tenuta è indignato per il fatto che Geronimo sia libero di camminare tra i corridoi, mentre Maria Fernandez, ancora accusata ingiustamente, è costretta a rimanere lontana dalla sua casa. Mentre i conflitti continuano, Manuel, Catalina e Martina cercano disperatamente di far cambiare idea a Cruz riguardo Maria, ma la Marchesa è irremovibile. Riusciranno a farle cambiare idea prima che sia troppo tardi? Nel frattempo, Simona confida a Lope il suo sospetto che Candela non sia realmente partita per Andugiar, ma che sia fuggita nelle Asturie con Carlos. La preoccupazione è forte. E se Candela non dovesse mai più tornare? Anche Feliciano, sebbene felice per il suo matrimonio, è tormentato da un segreto che sua madre non ha ancora rivelato alla Marchesa riguardo la sua vera origine. La situazione si fa ancora più intricata quando Vera, con grande sorpresa, riesce a conquistarsi l'affetto dei suoi colleghi comprando loro dei regali. E mentre Don Lorenzo complotta con Margarita per scoprire il vero legame tra Geronimo e Pelaio, le tensioni non accennano a placarsi. Manuel, furioso con Abel per il suo comportamento, scatena una lite, mentre Simona inizia a riprendersi dalla partenza di Candela e accetta Vera in cucina. Ma la tensione è tutt'altro che risolta. Salvador è sempre più preoccupato per Maria, sperando che Catalina possa convincere la Marchesa a far tornare la cameriera. E mentre Curro si esercita con il tiro in compagnia di Manuel, la situazione esplode quando Catalina rivela che né lei, né Manuel né Martina sono riusciti a convincere Cruz a reintegrare Maria. Intanto Geronimo, con gli occhi attenti, continua a osservare i movimenti di Catalina e Pelaio, i quali nonostante tutto hanno finalmente ammesso di amarsi. E ora che tutto sembra precipitare, Curro entra di corsa nel salotto gridando di aver bisogno di un medico. Ma cosa sarà successo? Scrivi nei commenti le tue ipotesi e non perdere le prossime anticipazioni per scoprire la verità.